Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie METTA IN CULA DEL CAZZO! MA CHE CAZZO DICI! PARCO DI- Ah ci hanno sniperato ragazzi E' sniping 100-100 raga Ok il dex l'abbiamo tolto Volevo farvi il... L'annuncio di- ah il mio dente è spezzato raga Mi si è spezzato un dente ieri, vaffanculo Tiè, vediamo se c'è lo rosa Forse c'è lo rosa Aspetta E' entrato! Grazie! C'è 30 mesi l'ho mai salutata male, mi scusi Peppino, anche lei Anche lei Peppino! Peppino è il tuo incubo che non ti molla mai Lo sai che a fine mese è puntuale, arriva lui Se non paghi quello stronzo chiama anche la polizia L'altro ieri mi ha rubato la dentiera di mia zia Cazzo sono vivo Si ce l'ho No dai raga No dai raga dai raga dai raga dai raga dai raga Porca di quella traia! Cazzo! Vaffanculo! Retta in culo! Io vi aspetto a Roma Al centro commerciale Porta di Roma Dalle 17 alle 19 Logitech mette giù i simulatori di guida Io sarò lì a provarli Se voi volete venire Ci facciamo due foto Ci facciamo due chiacchiere Mi portate una pinza romana, vi ringrazio Vi aspetto la raga Come stai? Non si entra da qua? Allora entriamo alla uscita Ciao Davidone, ciao ragazzi Fammi mangiare poi arrivo Devo mangiare raga, devo mangiare Grazie ragazzi Ok Devi parlare con... Vengo giù, vengo a Roma Allora ragazzi Il 22 giugno Sono al Media World Del centro commerciale Porta di Roma Per un evento con Logitech Ci saranno i simulatori di guida I fighissimi simulatori di guida ragazzi Li hanno portati apposta giù a Roma E li hanno montati nel centro commerciale Porta di Roma Dentro al Media World Se venite li potete provare E possiamo fare anche quattro chiacchiere insieme Io sono lì Chiaramente l'ingresso è gratuito Chiaramente non ci sono pronotazioni da fare raga È un evento con Logitech Ero già venuto giù a Roma Un po' di tempo fa L'anno scorso per la precisione No John, John, John No Merda No forse 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 no Aspetta meglio non fare vedere raga Situazione qua Mi ha improntizzato Guardi qua No non voglio, non voglio più girarmi Puoi più girarmi Non voglio più girarmi Ci sono le palle che vanno a destra e a sinistra raga Che cazzo Raga Non faccia vedere Ma hai visto qualcosa? Ma io mi auguro proprio di no nel senso Sì So che Fm sottolineatura John regala due abbonamenti John Filippo Stiere Marrano Grazie per aver portato due mozzi sulla mia bagnarola Ahahahah Adesso lo andiamo. La mappa è veramente grossa, ragazzi. Foto hot mandata. Vediamo la foto hot. Un momento, eh, guys. No, intanto, il 3%. Ce lo prendiamo. Avevo l'opisodità di avere Alvaruccio e Camilla e è andato a scegliere Ercole. Ho scelto Ercole. Ho scelto Ercole. La barra è sbagliata? No. La barra non la decido io, funziona automaticamente. Sì, gameplay così pesante, raga, eh. Ah, è vero, dobbiamo sbustare, raga. C'è una ragazza che è vestita da... Io ti ringrazio, questa è energia pura. E lo bevi così, amore mio. Abbiamo il caffè, raga. Bene. Alex di Ercole. Ciao bello, come stai? Bene, bene. Al certo punto mi sei sembrato Alex parafumo, ho detto, no, non è lui. Cazzo, me lo dico in tutti quando faccio il live. Eh, bro, eh, bro, eh, no. Faccio le live, ma è ipic. Faccio le live da poco. Facciamo gli auguri a Lollo che ne fa 18. Chi è Lollo? Auguri Lollo! Niente da fare, ma la gente ce la fa. Pronto? Non male, lì abbiamo fatto 220 punti. Non male. Ma io ti ringrazio, Real Pazzacucco, di brutto, l'accetto più che volentieri. La terrò. La terrò. Consiglio generale per imparare a suonare un nuovo strumento? Video tutorial YouTube. Siamo nel 2024. Potete imparare a suonare uno strumento senza un maestro. Dedizione. Certo che ho fatto le final di un torneo. Buongiorno, ragazzi. Questa Pusa Splash, ma non succede nulla. Sono bellissimi. Sono veramente fighi. Veramente, veramente fighi. Allora. Io direi che siamo pronti. Abbiamo... Gli ho presi ieri in fiera, me li hanno regalati. Con i cactus. Il tizio non ci insegue più. Questo è molto buono. Stiamo sistemando anche la macchina. Molto bene, raga. Molto bene, ci siamo. Ci siamo. Ma non la macchina. Beh, per quello. Ma dicole che cazzo. Ok. Eh, infatti. Ciao, Daleks! Le nuove chitarre che hanno aggiunto in game mi ricordano gli sporche. Non sono male! Ok, io sono sempre senza scudi. Pro crack a core accent. Grande. Sì, fatta la battola. Faccio, faccio. Vai, via. Ciao, bello! Guardando delle clip che Sclerio insulti alla gente per la tua rabbia. Ma so che in fondo sei una persona di cuore. Certo, anche perché io non so bene chi insulto. Io insulto personaggi virtuali. Ho trovato il combat blu. Ho trovato un altro medikit. Un pulso. Un buone. Stare! Andiamo, andiamo. A bustare, andiamo. John, lei è matto? Mi faccia mettere nella sua busta il gastri che mi ha chiesto. Guarda questa, John. Buongiorno, Dave.